Allora, Daniele Bortoletti, prima di parlare della partita sei arrivato per fare l'intervista, hai bloccato tutto, sia a me che il cameraman, per andarti a mettere la gelatina. È per la fidanzata o per le fans? No, per le fans sicuramente, per tutte le fans del Ponzacco. Ecco dai, a parte le battute, hai giocato anche quest'oggi una grande partita di sostanza, in un campo difficile, una vittoria che vale doppio visto il pareggio del Pietrasanta. No, sì sicuramente, venivamo qua dopo due vittorie, volevamo chiudere la settimana bene, vincendo, mantenendo il distacco in campionato, sapevamo però comunque che venivamo in un campo difficile, sia per il tempo che per un granché, però abbiamo fatto bene, ci siamo messi lì lottando, è stata una battaglia e abbiamo preso questi tre punti meritati, continuiamo così, il Pietrasanta poi ha pareggiato, quindi allunghiamo ancora, però non c'è da ammodare niente. Ecco, tu che sei uno dei reduci da Pisa Sporting Club, in quegli anni avete sempre lottato per arrivare a vincere il campionato, cosa hai trovato di diverso qua a Ponzacco? Ma qui sicuramente c'è la gente che ti dà una spinta, io quando eravamo a Pisa Sporting Club avevamo una grande squadra comunque in tutti e tre gli anni, però mancava sempre quel qualcosa che qui c'è, qui veramente c'è sempre il pubblico che ti incita, ti segue da tutte le parti, e questa è una grande differenza che secondo me poi farà la differenza, poi lasciando stare che noi siamo una grande squadra, siamo forti, vogliamo andare avanti sia in Coppa che in questo campionato, sperando di andare su. Ecco, hai già giocato anche la fase finale della Coppa Italia, cosa ci puoi dire su questa fase? Saranno tutte squadre di alto livello, quindi saranno partite difficilissime? Sì, sicuramente, io l'ho già giocata e possiamo dire che chi vince la Coppa della propria regione vuol dire che ha un organico importante, saranno tutte battaglie, comunque saranno di 180 minuti, noi però possiamo fare la nostra figura non tralasciando il campionato assolutamente, però comunque in Coppa possiamo arrivare in fondo, sarebbe bello, sarebbe bello, speriamo, speriamo.